Ed eccoci ritrovati di nuovo in onda con il nostro Instant Focus che oggi dedichiamo a un argomento particolarmente caldo, sicuramente di grande interesse, ovvero la digitalizzazione delle imprese italiane. Un processo che naturalmente è stato accelerato dalla pandemia, un processo che diventa fondamentale per restare competitivi sul mercato nazionale e su quello internazionale. Ne parliamo con l'ospite di oggi, ovvero Paolo Romiti, presidente del gruppo Prismi. Bentrovato e grazie naturalmente per essere qui con noi alle fonti. Buongiorno. Bene, dottor Romiti, abbiamo detto c'è una grande voglia di digitalizzazione, una necessità naturalmente non solo nel nostro paese ma nel contesto globale internazionale, anche se per quanto riguarda l'Italia i numeri non sono proprio lusinghieri, anche perché una ricerca ci dice che per il 63% delle aziende italiane, quindi due aziende su tre, l'infrastruttura digitale resta ancora un problema, un problema concreto. Le chiedo innanzitutto come mai c'è questo gap tra l'Italia, il resto d'Europa e naturalmente il resto del mondo e quali sono poi le eventuali strategie che le imprese italiane possono mettere in atto per cercare di ridurre questa distanza? Ma allora, diciamo che concordo pienamente sul fatto che la pandemia abbia accelerato il bisogno. Questi dati che fanno emergere una diversità, diciamo così, di approccio alla digitalizzazione fra l'Italia e l'Europa è un po' figlia anche del tessuto economico che noi abbiamo nel paese, nel senso che le grandi imprese italiane stanno facendo un percorso anche forti delle competenze che hanno dentro e che in qualche modo aiutano a potersi affacciare alla trasformazione digitale in una certa maniera, oltre al fatto che hanno la possibilità di avere diversi interlocutori che sono in grado di potergli dare delle soluzioni e gli propongono soluzioni continuamente che loro possono scegliere e usare per raggiungere i loro obiettivi. In modo particolare, diciamo anche la piccola impresa ha degli interlocutori nazionali che in qualche modo coprono questa esigenza dal punto di vista del supporto, quella che in realtà è il tessuto che in qualche modo rimane più indietro è il tessuto della media impresa, quell'entità che è sofisticata da un punto di vista sia dimensionale che di competenza, che però è molto polverizzata, è molto locale, quindi è molto fisicamente presente nei distretti industriali locali del paese e che è molto faticoso da in qualche modo servire, tanto che queste realtà molto spesso si affidano a realtà locali, quindi a piccole società che localmente portano e danno qualche competenza ma che non sono strutturate per poter sempre riuscire a rispondere a tutte le esigenze che queste realtà hanno. In più queste realtà hanno un tema proprio da un punto di vista strutturale, non hanno sempre le competenze, i direttori digital, marketing capaci di poter fare questo tipo di percorso, molto viene affidato all'imprenditore o all'amministratore delegato che molto spesso è la stessa persona, che in qualche modo quando accentra su di sé tutti questi ruoli poi fa fatica a riuscire senza un aiuto a poter traghettare l'azienda verso il digitale. Questo purtroppo è un grande problema perché il tessuto nazionale è soprattutto medio. Molte di queste realtà sarebbero già pronte a acquisire la digitalizzazione all'interno dei loro processi, in realtà il problema è che proprio hanno questa mancanza da un punto di vista strutturale che in qualche modo le limita. L'altro problema è che la trasformazione digitale nelle medie imprese ha anche un tema culturale dell'impresa stessa, nel senso che la trasformazione digitale non è solo l'utilizzo di soluzioni digitali, è anche il sapere o il poter mettersi in discussione dal punto di vista del business accompagnando quelle che le soluzioni digitali ti permettono di fare. Se tu non fai quella trasformazione dal punto di vista culturale non riesci nemmeno a usarle nel miglior modo possibile e questo è purtroppo un altro elemento, un altro fattore che rallenta la digitalizzazione. Ne abbiamo messi sul piatto diversi, insomma non c'è una sola causa come molto spesso accade per analizzare un fenomeno ma è un insieme di fattori e di elementi differenti, abbiamo detto le dimensioni, il problema strutturale, la cultura e tutto questo insomma frena un po' il processo e bisogna lavorarci, anche perché il mondo della tecnologia, del digitale corre in avanti e lo fa a velocità davvero supersonica, la possiamo definire così, anche perché ormai c'è già lo step successivo nel mondo della digitalizzazione che riguarda l'intelligenza artificiale. Ne parliamo tantissimo, ne parliamo tutti i giorni ormai dal novembre dell'anno scorso, soprattutto da quando ChatGPT è entrata nelle nostre vite, nella nostra quotidianità, ovviamente l'impatto dell'intelligenza artificiale non riguarda solo la vita dei singoli, ecco degli individui, ma anche quella delle imprese e quindi dottor Lomiti io le chiedo se le aziende italiane sono in grado ecco di affrontare, di superare con successo questa rivoluzione che possiamo definire epocale. Allora, un po' la risposta a questa domanda è un po' figlia diciamo del discorso che facciamo prima sulla digitalizzazione. Allora, l'intelligenza artificiale partiamo dal presupposto che è una realtà esistente, presente e non è più una cosa futura, non è un argomento di dire ci sarà, vedremo, faremo. Non è fantascienza, è realtà, è cronaca ormai. È realtà, quindi il tema è che molte realtà grandi italiane già oggi hanno avviato diversi progetti su intelligenza artificiale, se noi guardiamo i dati dell'osservatorio del Politecnico di Milano ci dice che il 61% delle imprese italiane grandi hanno avviato almeno un progetto di intelligenza artificiale all'interno delle loro attività. Molte di queste vengono utilizzate per gestire i processi interni, quindi per migliorare l'efficienza dei processi, soprattutto quelli a minore valore aggiunto, cioè dove la struttura dell'automatismo che l'intelligenza artificiale ti permette è più facile da mettere a terra e da far raggiungere certi tipi di obiettivi. Questo, purtroppo questo elemento, questo dato, sempre per lo stesso osservatorio, cade drasticamente nella media impresa, nel senso che la media impresa invece ha un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non supera il 15%, e per di più quest'anno, perché l'anno scorso era il 6%, quindi il problema del fatto di utilizzare l'intelligenza artificiale diventa un limite per queste realtà, nel senso che il fatto che non riescano ad attivare dei progetti e dei processi che in qualche modo utilizzino, i cui possono beneficiare dell'intelligenza artificiale, li limita in questo caso anche nei confronti dei propri competitor. E questo è un gap che va assolutamente colmato. Purtroppo figlio sempre dell'approccio, del fatto che comunque inserire una soluzione tecnologica all'interno dei propri processi, in questo caso vuol dire proprio cambiare il modo di lavorare che l'azienda ha e quindi molto spesso le aziende medie fanno tante tica. Certo, ecco giustamente detto, un gap che deve essere colmato e deve essere colmato subito, perché abbiamo detto la digitalizzazione, l'impatto dell'intelligenza artificiale è qualcosa che riguarda il momento presente, non solo il futuro. E quindi ecco, io mi riaggancio a queste sue parole per chiederle una prospettiva anche in termini temporali, cioè quanto ci impiegherà il sistema imprenditoriale italiano ad adeguarsi, a restare al passo con gli altri competitor europei e globali. Si tratta di anni e di quanti anni? Allora, adesso fare una previsione in termini temporali secondo me è un po' come leggere nella sfera di cristallo. Il tema vero è che secondo me questo un po' deriverà dalla competizione che queste entità riceveranno da competitor anche internazionali che in qualche modo si presenteranno sul mercato. L'ausilio dell'intelligenza artificiale secondo me avrà un'accelerazione importante nei prossimi anni e non parlo di dieci anni, parlo di uno o due anni, anche perché diverse strutture in qualche modo anche che siano in grado di poter aiutare le aziende nell'accompagnarle nell'ausilio di questi tipi di soluzioni stanno cominciando a nascere, saranno sempre più presenti sul mercato italiano e quindi si affacceranno alla media impresa e la media impresa potrà utilizzare queste società per poter in qualche modo avere un beneficio di accelerazione, di competenza e di know-how. Ecco sì, un'altra parola chiave sicuramente è la competenza, la formazione perché tutto il mondo della digitalizzazione richiede anche delle nuove figure professionali che adesso mancano anche sul mercato, questo sicuramente è un altro punto che dobbiamo tenere presente. Abbiamo parlato ovviamente di digitalizzazione, è un po' la parola chiave di questo Instant Focus, ne dobbiamo però mettere sul piatto un'altra, ovvero internazionalizzazione. Anche questo è un altro concetto decisivo perché è vero che un po' il concetto di globalizzazione è entrato in crisi, soprattutto dal periodo post-pandemico con la guerra in Ucraina, ma è vero anche che comunque le aziende continuano a operare a livello globale, quindi il concetto di internazionalizzazione è importante anche per le PMI italiane. Ecco, noi come siamo messi, dottor Romiti? Beh, allora, diciamo che sul concetto dell'approccio internazionale del mercato italiano, anche qui ci sono diversità rispetto ai diversi comparti e dimensioni dell'azienda e ci sono anche, diciamo, delle informazioni che non abbiamo sempre fino in fondo, perché le grandi imprese italiane in qualche modo sono presenti, fanno quello che devono fare e hanno una presenza internazionale anche importante. In realtà noi diciamo, è moda dire che il mercato medio in realtà non è particolarmente forte nella parte internazionale, in realtà ci sono delle eccellenze che noi troviamo sconosciute, che capitano e ci sconvolgono da quanto sono in realtà abituate a vendere all'estero, però è comunque vero che il nostro mercato è un mercato ricco, nel senso che noi abbiamo un bel PIL, quindi le aziende italiane quando nascono in Italia si concentrano soprattutto su vendere al mercato domestico, cosa che per esempio nei paesi scandinavi non succede, perché avendo un mercato molto più piccolo si approcciano subito ai mercati internazionali, nascono già con quel tipo di approccio, noi purtroppo siamo un po' viziati da questo punto di vista. Però è vero anche che il Made in Italy si presta, insomma, a questa apertura? In realtà questo è assolutamente vero e si affaccia anche questa possibilità e questa potenzialità anche con la digitalizzazione stessa, nel senso che tutti i progetti digitali sono globali per definizione e quindi in realtà più queste realtà medie si riusciranno ad affacciare alla digitalizzazione, più avranno la capacità di poter essere anche ad acquisire un approccio internazionale. Ci sono anche degli esempi che mi è capitato di dover gestire e vedere di società italiane che hanno dovuto anche reagire dal punto di vista del proprio approccio internazionale perché la digitalizzazione proprio legata alla pandemia ha portato realtà competitor che non esistevano sul mercato italiano perché erano straniere ad affacciarsi sul mercato e quindi rubargli spazio, anche magari in realtà più grandi, molto più grandi e questo le ha svegliate, tra virgolette, e le ha fatte reagire. Questo purtroppo non è il metodo giusto, nel senso che per riuscire a essere difensori del proprio business e sviluppatori della propria realtà bisognerebbe sempre essere un po' precursori di queste cose. Quando tu reagisci sei sempre un passo indietro. Un po' in ritardo, però detto questo sicuramente anche questo aumento della competizione che le aziende italiane avranno per via dell'entrata del mercato italiano di aziende straniere grazie a piattaforme digitali sveglierà fortemente le imprese medie italiane nel fare un certo tipo di percorso verso i mercati internazionali. Ecco sì, anche questo è assolutamente un punto su cui riflettere. Si dice sempre insomma che non bisogna inseguire il cambiamento ma bisogna stimolarlo e quindi ecco è questa la linea che anche le nostre piccole e medie imprese devono seguire. Io ringrazio davvero il dottor Paolo Romiti, presidente del gruppo Prismi, per la sua analisi puntuale di questo tema che ricordiamo è centrale in questo momento e lo sarà sempre di più, quindi io l'aspetto di nuovo qui nei nostri studi per continuare a parlarne. Io la ringrazio e naturalmente do l'appuntamento ai nostri telespettatori con il prossimo Instant Focus e la programmazione di Le Fonti TV.